Ascoltate, qui dice che l'iscrizione è tra circa mezz'ora. Se Austin firmerà le pratiche, non potremo fare più niente. Entriamo lì dentro prima che sia troppo tardi. Oh no! Credo che Austin ora sia dal barbiere per farsi radere i capelli. E allora cosa gli resterà? Sul serio, Dez? Lui sta per entrare alla scuola militare e tu pensi a una simile sciocchezza? Pensi ai suoi capelli? A quei suoi boccoli d'oro? Al modo in cui ondeggiano la prezza estiva? Al modo perfetto con cui scendono sopra? E entriamo lì prima che sia troppo tardi! Dez, noi distrarremo la guardia e tu entrerai. Giusto? Posso aiutarvi? Grazie! Salve! Grazie! Lei può aiutarci! Vero, Trish? Vai! Grazie! Come va? Noi stiamo cercando la nostra nonna! Tortora! La nonna della nostra tortora! La tortora di nostra nonna! Detta così, Trish, ha molto più senso! Forza, andiamo la tortorella! È così che è riuscita a volare via dalla finestra! La tortora non nostra nonna! Le nonne non volano! Zuccone! Scusami! Zucca è il nome di nostra nonna, capisce? Già, la nostra cara nonna Zucca! Suono strano come nome, vero? Eh! Le migliori amiche, amiche per sempre! L-A-P-S Questo balletto di cinque minuti e la canzone sono divertenti! Ma che cosa c'entrano con la tortora volata via? Ditemi! Eeeh! Quello cos'era? Io non ho sentito niente! Au! E neanche adesso! Ragazzi, sono riuscito ad entrare! Avanti, andiamo! Tu, vieni qui! Voglio una spiegazione, ora! Io sono la tortora della nonna! Get go! Get go! Get go! Non stavamo cercando la tortora di nostra nonna, capisce? È vero! Non sono un uccello! Volevamo entrare solo per vedere il nostro amico Austin Moon! Perché non me l'avete detto? Entrate, dai! Davvero? Su, serio? Certo, i visitatori sono sempre ammessi! Dovrete solo firmare qui e avrò il piacere di darvi il vostro bel! Gentile! E una mentina! Non farlo! Oste, si riattaccano! Eh? Cosa? Oste! Che cosa hanno fatto alla tua parte? Ragazzi? Austin! Sei proprio tu! Austin e Ellie a Disney Channel 住viare? Tornati dell'amico! Anche alle abitazioni le abitazioni caomb Уffioter